Ho aperto il cancello qua, il portone, ho trovato il deserto. Ho girato gli occhi, ho visto che mi manca tutto. Tre trattori? Tre trattori. Il furto subito a fine novembre dall'azienda agricola Amazona Torreselle di Piombino d'Ese, campagna e anche nella vicinissima Badoere, ha aperto una stagione drammatica per le aziende agricole della marca. I furti di trattori, mezzi che costano anche 100.000 euro, non sono più casi isolati ma si contano a decine. Tre trattori a Cessalto, bottino oltre 250.000 euro, altrettanti a Motta, due a Resana, ritrovati questi ultimi grazie al GPS, in un camion con Targa rumena pronto a partire per l'Europa dell'Est. L'ultimo furto è notizia di queste ore in un'azienda agricola di Vittorio Veneto, una recrudescenza di colpi che ha portato la Col di Retti di Treviso a chiedere aiuto alla prefettura con il presidente Giorgio Polegato che ha incontrato il prefetto Maria Rosari a Laganà. Chiederà un comitato ad hoc per questa emergenza, appunto con le forze d'ordine, in modo da capire come poter prevenire questi tipi di reato. Mezzi caricati su container o camion schermati per disattivare il GPS, colpi mirati e rapidissimi. Il sospetto è che dietro questo saccheggio nelle aziende agricole ci siano delle bande organizzate e specializzate forse anche con basisti locali. Di qui la richiesta della Col di Retti di istituire una vera e propria task force per indagare su questi furti che rischiano di mettere in ginocchio molte aziende del territorio. Comunque i mezzi vengono caricati su di camion, su di rimorchi, perciò li portano via interi e nonostante abbiano gli altri furti, nonostante non abbiano le chiavi su, comunque hanno questi sistemi e poi non si sa bene dove vadano a finire. Poi chiaramente le assicurazioni dove nel caso si è assicurato chiaramente non comprano mai la spesa produttuale e uno si trova che ha speso magari anche 100 mila Euro per un mezzo e si trova magari a distanza di poco, magari con un valore, non dico dimensato, ma quasi.